Prima di iniziare il video lascia un like ed iscriviti al canale, te ne saremmo davvero molto grati, grazie di cuore. Un velo di tristezza avvolge l'Italia, con una notizia dolorosa che ha raggiunto di recente la nostra redazione, lasciando tutti profondamente scossi. La comunicazione è caduta come un fulmine in un cielo sereno, vediamo di chi si tratta. La scomparsa di Barbara Pastori, della comunità di cureggio e icona volontaria dell'Oasi dei Mici Felici, ha trafitto i cuori di innumerevoli individui. In questi mesi, da quando Aprile fu gravemente colpita da un malore, molti hanno nutrito una speranza intensa per il suo recupero. Barbara, un volto noto nella zona di Borgomanero grazie al suo impegno instancabile all'Oasi dei Mici Felici, negli anni ha teso la mano in numerose circostanze, offrendo cure e un rifugio agli animali in difficoltà. La memoria collettiva la ricorda così, una figura generosa, sempre pronta a intervenire, indipendentemente dall'ora del giorno o della notte. Il funerale è stato celebrato ieri, lunedì 9 ottobre 2023, nella chiesa parrocchiale di Cureggio, in un'atmosfera impregnata di silenziosa commemorazione e ricordo.